Un caro saluto da Maria Giulianci, il tempo previsto per venerdì 14 giugno. Si rafforza l'anticicolone nordafricano sulle regioni centro-meridionale, mentre sul nord Italia insistono ancora correnti più fresche di origine atlantica. Ecco allora il tempo previsto, come potete vedere, un po' di nuvole, ma senza rovescio temporale sul nord Italia, sulla Toscana, sulla Sardegna, temperature massime sopra 30 gradi ovunque tranne il Triveneto e le coste del Medio Alto Adriatico. Valori tra 34 e 37 gradi sulla Toscana, su Lazio, nelle zone interne della Toscana e del Lazio, sull'Umbria, sulla Puglia e sull'interno delle isole maggiore. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giulianci.